Assessore, nel Comune di Fano si continua a prestare attenzione al tema della genitorialità, in questo caso grazie alla Labirinto con la quale è collaborato da tanti anni. Sì, con Labirinto c'è un rapporto più che ventennale del Comune di Fano e questa volta siamo partner per un percorso di accompagnamento alla genitorialità e in particolare al postparto. Chiaramente si inserisce sempre nell'ambito delle opportunità che affianchiamo ai servizi 06 anni, quindi di nido e di infanzia, in questo caso specifico ovviamente dei servizi 03 che si realizzerà attraverso da un lato un corso di accompagnamento per i genitori rispetto ai temi pedagogici che sono successivi al parto, dall'altro con uno sportello per i genitori che i servizi educativi del Comune di Fano renderanno attivo ogni mercoledì per l'intero anno scolastico fino al 2025. Questa è una partnership per noi molto importante perché consente di offrire un'opportunità e un servizio in più per i genitori delle nostre scuole. A proposito di bimbi, la città attende anche due esili nido? Sì, la nostra è una città, gli spettatori lo sanno bene, che da anni investe tanto nei servizi educativi e l'anno scorso nell'ambito del PNRR abbiamo candidato e ottenuto i finanziamenti per due nuove strutture di nido che porteranno nella nostra città sei nuove sezioni, quindi stiamo parlando di numeri importanti che aumenteranno di circa il 30% la capacità di accoglienza dei nostri nidi. Nel dettaglio che cosa comprende questo progetto chiamato C'era una volta? Allora, C'era una volta è un'opportunità per bambine e bambine nella fascia 06 e per le loro famiglie. La cooperativa Labirinto è capofila e il Comune di Fano in questo caso fa parte dei 12 partner e praticamente sono previste delle possibilità per le famiglie come per esempio il corso postparto che si terrà appunto qui alla Memo e sono previsti degli incontri che partiranno il 30 marzo e si concluderanno il 4 maggio. È possibile iscriversi agli incontri tramite WhatsApp, c'è un numero. Poi è già partita gli incontri gratuiti online per le famiglie. Il primo è stato il 6 marzo, così concluderà il 22 maggio. Qua le famiglie lo stesso possono iscriversi tramite un link e le lezioni sono online, quindi basta poi accedere al link. Altro servizio invece è quello che riguarda gli sportelli. Per quanto riguarda gli sportelli partiranno anche questi e uno sarà tenuto dalla dottoressa Jessica Omizzolo, l'altra sarà tenuto dalla dottoressa Elenia Di Giampietro. Jessica Omizzolo riceverà le prenotazioni tramite il suo indirizzo e-mail e Elenia Di Giampietro lo stesso. Praticamente lo sportello sarà il mercoledì dalle 15 alle 18 all'interno di una sede dei servizi educativi del Comune di Fano. Ed è finalizzato ad un supporto psicologico? È un supporto sì alla genitorialità, quindi per famiglie che possono recarsi in questo luogo e in cui possono portare qualsiasi richiesta, anche una semplice chiacchierata, un confronto. Si tratta di un servizio gratuito? Sì, tutti i servizi proposti, i corsi sono gratuiti. Sì, tutti i servizi sono gratuiti.